cari amici di comotori siamo quest'oggi in quel di milano per una doppia presentazione stampa di byd presentazione stampa con due vetture la dolphin una vettura dinamica ed agile è una sille una vettura più performante sportiva siamo in compagnia di gianmaria damo con tre country manager di by way d italia gianmaria inizialmente le caratteristiche principali di entrambe le vetture sì oggi presentiamo due versioni due modelli molto interessanti abbiamo da un lato la seal quindi una berlina di segmento segmento di caratterizzata sicuramente da un elevato contenuto tecnologico da tanta sportività stiamo parlando di una macchina che ha un pacco batteria da 32,5 kilowatt e può avere autonomie che variano a seconda della trazione posteriore o trazione integrale tra i 570 chilometri e 520 chilometri nel ciclo misto vl tp tanta performance 0 a 100 nella versione più performante in soltanto 3,8 secondi quindi una macchina decisamente sportiva nelle prestazioni e nelle performance dall'altra parte poi abbiamo invece una la dolphin una vettura di segmento c una una hatchback che fondamentalmente permette di avere un pacco batteria da 60,5 kilowatt e avere una percorrenza in ciclo misto vl tp di circa 420 chilometri quindi un utilizzo che può essere sia urbano per un cliente giovane dinamico per giovani famiglie ma al contempo essere utilizzata senza problemi anche nelle medie e lunghe distanze già maria ho avuto modo di apprezzare su strada la vettura grande comfort di marcia e ho notato anche una grande ricerca del design intero della funzionalità e mi ha dato anche un grande senso di sicurezza innanzitutto mi fa piacere perché soprattutto la sicurezza è uno degli elementi imprescindibili per tutta BYD infatti sia la seal che la dolphin hanno ricevuto anche la certificazione oren cap per le cinque stelle proprio a dimostrazione della della qualità della cura costruttiva dell'attenzione alla sicurezza attiva e passiva tutte le nostre macchine quindi dolphin e seal hanno di serie i sistemi ADAS fino a livello 2 le nostre batterie quindi e blade battery hanno superato degli importanti stress test dimostrando appunto la massima sicurezza quindi veramente tanta attenzione sul fronte della sicurezza comfort e anche qualità percepita già maria parlato prima di propulsione elettrica volevo sapere le autonomie e il tipo di ricarica come kilowatt allora per quanto riguarda la seal stiamo parlando di autonomie che variano tra i 570 nella versione più per quanto riguarda le autonomie partiamo da la seal variamo tra i 520 e 570 chilometri di autonomia nel ciclo misto VLTP e per quanto riguarda invece la ricarica fondamentalmente può ricaricare in corrente continua fino a 150 kilowatt viceversa in corrente alternata fino a 11 kilowatt e trifase dall'altra parte la dolphin invece ha un'autonomia di 420 chilometri sempre VLTP nel ciclo misto e per quanto riguarda la ricarica o 11 kilowatt in corrente alternata con una trifase oppure 88 kilowatt in corrente continua garantendo garantendo ricarica dal 30 all 80 per cento in circa 29 minuti quindi una pausa permette di tranquillamente poi proseguire il viaggio senza problemi per quanto riguarda invece i prezzi e la disponibilità delle vetture per quanto riguarda la dolphin sono già disponibili presso le nostre concessionarie le vetture dimostrative quindi è già possibile recarsi in concessionaria per provarla per quanto riguarda i prezzi partiamo da circa 35 mila euro qualcosina di più di 35 mila euro per quanto riguarda la dolphin con il pacco batteria da 60 kilowatt arriverà poi nella prima parte del primo trimestre l'anno prossimo anche una versione con un pacco batteria da 45 kilowatt e partirà dai 30 mila 790 euro dall'altra parte invece la seal arriverà entro entro la fine dell'anno ma già nelle prossime settimane pensiamo di riuscire ad avere le prime vetture dimostrative ai nostri concessionari ringrazio gian maria e ricorda a tutti che tutto il mondo dell'automotive lo potete trovare sul nostro sito web www.ecomotorinews.it nonché sul nostro canale video di youtube e nostri social collegati di facebook instagram linkedin e twitter